Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti, da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Circa 10.000 persone hanno preso parte ieri a Cocullo, il piccolo paese della Valle del Sagittario, al rito dei Serpari in onore di San Domenico, con la processione che si è svolta regolarmente, nonostante il freddo e l'annunciata pioggia che alla fine non c'è stata. Tanto che il Vescovo di Sulmona, Socccellenza Monsignor Angelo Spina, ha ringraziato il Santo per aver fatto un piccolo miracolo, così ha detto. Da ieri in paese sono state allestite alcune postazioni, da sabato, alcune postazioni per la raccolta di firme finalizzata al riconoscimento di patrimonio UNESCO e in poche ore ne sono state raccolte alcune migliaia. Secondo il presidente della regione D'Alfonso, ci sono tutte le caratteristiche affinché il rito dei Serpari di Cocullo sia riconosciuto come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Per i prossimi cinque anni l'Abruzzo, tra Masterplan, POR, FESR, Fondo Sociale Europeo, Edilizia Sanitaria e Piano Sociale Regionale, avrà a disposizione una mole di risorse pari a circa 3 miliardi di euro. Gli uffici regionali e quelli comunali coinvolti dovranno essere capaci di mettere in piedi progetti e procedure. Lo ha detto il presidente della regione Abruzzo alla fine dell'incontro con le parti sociali questa mattina. Subito un servizio di vigilanza regionale per garantire continuità e controlli ambientali, lo chiede il WWF dopo che, con la soppressione delle province, si sono presentati problemi nella riorganizzazione di apparati e funzioni. Finora la vigilanza ambientale era garantita dalle polizie provinciali. Adesso, ricorda il WWF in una nota, gran parte del personale è destinato ad altri settori. C'è poi un clamoroso ritardo nelle procedure di applicazione delle nuove competenze. Altre regioni, dice il WWF, sono intervenute con leggi o convenzioni per garantire continuità su caccia, pesca, bracconaggio, uso di suolo e sottobosco, rifiuti e inquinamento. Davanti al giudice relatore del Tribunale Civile di Chieti, Nicola Valletta, la prima odienza del procedimento dopo l'istanza di dichiarazione di insolvenza per l'ex Carichieti, una delle quattro banche in risoluzione dal 22 novembre 2015. L'istanza è stata presentata dal legale Massimo Bigerna di Roma, commissario nominato da Banca Italia, dopo che Carichieti è stata posta in liquidazione coatta amministrativa a dicembre 2015. La misurabilità dei risultati favorita dall'adozione di scelte applicative settore per settore rappresenta uno degli elementi del patto per lo sviluppo e lavoro maggiormente apprezzati. Il documento in questione proposto dal Governo regionale è stato presentato alle parti sociali chiamate al confronto stamattina in Regione con il Presidente della Giunta regionale, D'Alfonso, un incontro molto partecipato che ha visto la presenza dei segretari regionali di CGL, CISL, UIL e UGL, dei Presidenti regionali di CONFAPI, CIA, Confederazione Italiana Agricoltura, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria. Dopo oltre 24 mesi dall'insediamento della Giunta, il Presidente della Regione Abruzzo, D'Alfonso, ha trascurato le politiche del personale della Regione Abruzzo nonostante l'approvazione di una legge regionale di riorganizzazione della macchina amministrativa, quella del 26 agosto 2014, annunciata in Pompamagna. Una riorganizzazione istituzionale non può essere realizzata se non si investe sulle risorse umane. Oggi in Regione si vive un clima di disorganizzazione, approssimazione, disattenzione e non curanza nei confronti dei dipendenti. La formazione è carente, gli obiettivi da raggiungere, approssimativi. Lo dichiara il segretario della Funzione pubblica Abruzzo Molise della CISL, a Vincenzo Tragnello. Nell'ambito del progetto per il rilancio del Centro Storico di Chieti, promosso dalla Camera di Commercio Teatina, le associazioni di categoria del settore commercio organizzano a maggio alcuni appuntamenti per presentare la formula del franchising. Il primo degli appuntamenti previsti è quello del 5 maggio, il Franchising Day, ed è organizzato dalla Confesercenti Chieti con la Federazione Italiana Franchising di Confesercenti. L'evento si terrà dalle 10 alle 17 nella Sala Rossa della Camera di Commercio di Chieti, in via Fratelli Pomiglio, all'ex foro Boario. Il dirigente del settore politiche sociali del Comune di Pescara rende noto che presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico in Piazza Luca d'Aosta alla Piano Terra e sul sito internet del Comune www.comune.pescara.it Sono disponibili i moduli per la domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica e la contestuale richiesta di esenzione o riduzione del 50% sul costo dei pasti anno scolastico 2016-2017. Hanno diritto all'agevolazione tariffaria solo gli utenti che risiedono nel Comune di Pescara con situazione reddituale risultante dall'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate rivolte ai minori non superiori a 5.939,25 euro per l'esenzione e non superiori a 10.632,93 euro per la riduzione al 50%. Mission e obiettivi specifici dell'annualità 2016 e del 2017 sono i contenuti del documento di programmazione sottoscritto dai rappresentanti dei Comuni di Montesilvano Giulianova, Martinsicuro, Montorio Alvomano e Mosciano Sant'Angelo. L'ufficio è nato nell'ambito di una convenzione sottoscritta dei 5 Comuni per intercettare nuove risorse, soprattutto di natura europea. Nell'ambito dell'ultima mission, relativa alla crescita e allo sviluppo dovranno essere ricercate le opportunità di partenariato per avviare differenti percorsi progettuali. In quest'area rientra il miglioramento delle opportunità di inserimento lavorativo. Come da convegno dello scorso 8 aprile, concluso dall'avvocato Marcello Pacifico presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Forense e dalla dottoressa Federica Chiavaroli, sottosegretario al Ministero della Giustizia di lancio sulla conciliazione, in particolare sull'apertura della sede secondaria a media conciliare è stata ufficialmente attivata la sede di via Isonzo 57 a Montesilvano diretta dal dottor Vincenzo Tina, presidente Cipam Cris. Un trattamento economico di favore sarà effettuato con apposito protocollo d'intesa per le associazioni rappresentate e per altre associazioni o soggetti partner dell'Associazione Contribuenti Italiani, come ad esempio amministrazioni di condominio ed altre realtà con inserimento apposito a convenzione nel regolamento condominiale. La bellezza disarmata è questo il titolo del libro di Don Julian Caron, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, che oggi sarà presentato da Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. L'appuntamento, previsto al Cinema Massimo di Pescara alle 18.15, è coordinato da Roberto Fontolan, responsabile del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione, evidenzierà i temi come la crisi della cultura occidentale, ma anche l'immigrazione, la famiglia, i nuovi diritti, l'Europa, il terrorismo, la politica e l'economia. Ci sarà anche Sua Eccellenza, Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescarapegne. Come ogni anno, l'Archeoclub d'Italia organizza, nella giornata dell'8 maggio, la tradizionale manifestazione nazionale Chiese Aperte, consistente nell'apertura al pubblico da parte dei volontari archeoclub di quelle chiese monumentali o no, ma comunque di interesse culturale, che di solito rimangono interdette ai lavoratori durante l'anno. Anche quest'anno, l'Archeoclub Pescara aprirà la chiesa romanica di Santa Maria del Lago, in Moscufo, in collaborazione con la locale amministrazione comunale. L'orario andrà dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede pioggia con temperature di circa 14 gradi sulla costa e di circa 11 gradi nelle zone interne e venti moderati. Domani si prevedono sulla costa pioggia fino a metà mattino, cielo nuvoloso fino a tutto il pomeriggio e da poco nuvoloso a nuvoloso in serata con temperature da 14 a 18 gradi e venti moderati. E nelle zone interne pioggia con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, temperature da 11 a 15 gradi e venti moderati. Il mare è previsto da poco mosso a mosso sia stasera che domani. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie e risentirci. Radio Speranza Notizie